Secondo me qui qualcuno sta barando La Française per dire la cocotte per dire la putain No, no, non schermitevi, non mi offindo Le puttane sono le persone più oneste Forse le sole persone oneste Quelle che non fingono mai di amare Nessun'altra categoria di lavoratori arriva a tanto Persino gli ortolani Che a volte fingono di amare un po' i loro clienti